Ma domenna mannata, ma tu sto a Stadia Rega Chino voglio non mannata può mazzerà signore Ma se ho chiapto, ho fatto il suo mazzerante Eeeh Oh Eeeh Scusate, è permesso, ma a Stadia Rega va che buona O Stadia Rega Chi sei nata che va a fare, ma no? Zuzzuso Eeeh Se tu vi venga direttamente la Catanzara Perché gioca contro la chiesta Eeeh Bombardino Lo sapete Ce ne vanno quattro con Matteo Ma tu hai mai visto a Bombardino? Chi lo fa passare a Pallina in Regio? Quando io con chi lo, ti la metto in cuffia Cule Ma chi è sto Bombardino? Messa mette a paura ris Mieci fermata a tre zeguetti Bello Ma chi è sto scemo? Arrivato il difensore, Presidente Usto è napiglio Ucce! Ucce! Che? Ti stai mai aspettando? È fatta tardi Tomo Uffa Chi ha formato a Bombardino? Ce la fai Ce la fai? Ce la fai Ce la fai Subito Subito Goal! 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 Tu hai formato a Giuseppe Tu hai formato a Giuseppe Tu hai formato a Giuseppe Cosce Si ha scippato un'ariccia Tu hai formato a Giuseppe Non so come facci Giuseppe Tu hai capito? Ehi! Ma chi sei Sto pazzo? Ma chi si è hard a Marca Bombardino? Che mai ti girarai a Giuseppe? E' già 23! Noo! Ma non esiste pro! Sto pazzo! Ia! Siamo in collegamento dallo Stadio Eriki e improvvisamente è scomparso il difensore del Catanzaro che doveva marcare Davide Bombardini. I dirigenti giallorossi lo stanno cercando per tutti i monti picentini, per i monti di Calvanico, ma per il momento non c'è traccia di lui. Vabbè, allora vengo. Hai capito? Ha bombardito la voce fermata così. Ho sparito in dei cosi.